Una doppietta di Marco Gaeta consente all'Avezzano di superare il Tolentino e allungare la mini striscia positiva che nel giro di otto giorni ha tirato momentaneamente fuori i bianco-verdi dalle secche della bassa classifica. Il nuovo corso, avviato dal ritorno dell'avvocato Gianni Paris alla guida della navicella marsicana, non poteva iniziare meglio. A ridare quella tranquillità che era mancata nel corso degli ultimi due mesi ha contribuito sicuramente il nuovo presidente, ma a restituire vigore ad una squadra che sembrava lo sbando ha contribuito sicuramente anche qui Alessandro Vaccaro. Se saranno stati meriti o semplicemente fortuna saranno le prossime domeniche a dirlo, considerato che allo stato dei fatti sarà ben difficile che Paris tolga il bastone del comando al tecnico delle giovanili. Era temuta questa partita da tutto l'ambiente, se non altro perché la squadra non si era allenata né mercoledì né giovedì e con due giorni di meno di lavoro la condizione fisica non è che ci impieghi molto a scendere. Ma sul piatto della bilancia questa volta ha pesato la voglia di sopravvivere e sono bastati pochi minuti per averne la conferma. E' il quinto quando Franchi intercetta sulla tre quarti, va sul fondo e crossa teso dalla parte opposta dove Gaeta e Cancelli arrivano con un attimo di ritardo. Al decimo i bianco-verdi passano, la palla esce per un attimo dall'area ospite ma Di Giacomo inventa il pallonetto a scavalcare che serve Gaeta, bravo ad evitare il fuorigioco, controllo della punta e rasoiata in fondo al sacco. Il Tolentino fatica a raccapezzarsi e al 37esimo Cancelli riceve da Franchi e prova la conclusione a giro ma senza la forza necessaria. E in chiusura di tempo vi mostriamo questo tentativo di Franchi sugli sviluppi di una punizione. Il suo destro viene deviato e per poco non sorprende Rossi. E poi la ripresa che vede il Tolentino provarci con maggiore convinzione. All'ottavo Mastro Monaco sferra il destro dai 20 metri, Fanti è reattivo e smanaccia in angolo con qualche difficoltà. Passa un minuto e un sinistro di Di Domenico Antonio impegna ancora Fanti nella parata che abbiamo appena visto. L'Avezzano soffre ma tiene botte e al 21esimo Diop si rende protagonista di una bella iniziativa sulla linea di fondo, andando a concludere ma da posizione troppo defilata per sperare di ottenere di più. Ancora Tolentino al 23esimo con questo calcio di punizione che spaventa i padroni di casa, ormai a corto di energie. Ma al 38esimo Lavezzano chiude il conto. Gaeta riceve palla, entra in area e gira Viola che lo mette giù. È il calcio di rigore che l'arbitro concede senza esitazione. Inutili le proteste ospiti e dagli 11 metri Gaeta fa centro e chiude i conti. A due minuti dal novantesimo De Costanzo si fa 40 metri di corse e poi cede a Puglielli che però conclude a lato. Cinque minuti di recupero e al triplice fischio del direttore di gara, Lavezzano può festeggiare un successo che vale veramente oro. Alessandro Vaccaro, due partite, sei punti. Adesso voglio vedere chi ha il coraggio di cacciarti. Ma guarda, qui non è questione di chi ha il coraggio di cacciarti. Io fin dal primo momento, come ho già detto, ho risposto presente. Il lavoro viene condiviso tra me, il gruppo e tutte le altre persone che lavorano dietro questo progetto, il progetto del Presidente Paris, all'unisono. Quindi abbiamo finalmente ricreato una struttura che ci permetterà di andare avanti. Poi, ripeto, io vivo il momento. Mi godo momento dopo momento, dal martedì fino alla domenica. Ma che settimana è stata quest'ultima per te, per tutti voi? Perché due giorni non vi siete allenati in pratica. Sì, non è stata sicuramente una situazione leggera. Però, come ho detto più volte, ho degli uomini importanti. Perché, ripeto, prima c'è l'uomo e solo dopo viene il calciatore. Quindi se hai la fortuna d'allenatore, ad avere degli uomini che sanno comunque percepire quello che tu gli vuoi portare, è tutto più facile. Luca Ralli, cominciò. Come stai facendo tu? Sì, no, vabbè, questa è nata scherzando ieri col Presidente. Tanto è vero che l'ho anche chiamato Alessandro perché l'accostamento a me non può fare altro che piacere. Perché Alessandro è uno che ha fatto tanto e ha fatto bene qui ad Avezzano con la gestione Paris. Quindi, ripeto, non può fare, mi fa solo che piacere. E arriva il bomber, Marco Gaite. Due gol, tre punti importanti. Allora, il rigore te lo sei cercato e l'hai messo a segno. Più difficile la prima segnatura o la seconda? Più difficile. Sicuramente la prima è che ho cercato di controllare la linea, poi ha messo una gran palla a Romano e l'ho dovuta piazzare sul primo pallo. Il secondo è che sono entrato in aria forse per provare a metterla dentro sul cross, poi ho visto che c'era spazio, ha affondato e lui, secondo me, ha affondato col piede, ha preso il contatto e per me era rigore. Poi lo andremo a rivedere. Avete ritrovato tranquillità questa settimana? Dopo una settimana, diciamo, un po' movimentata? Sì, sicuramente è stato un periodo veramente difficile per noi. Molto, molto turbolento. Non voglio stare qui a dire tutte le cose che sono successe, ma cose surreali. Bisogna dire grazie al presidente Paris che è entrato e ci ha dato veramente una grandissima boccata di ossigeno e grandissima serenità. Adesso bisogna proseguire su questo ritmo, su questa strada invocata. Certo, dobbiamo continuare a lavorare. Sappiamo che adesso il calendario si fa complicato, però siamo una squadra che deve essere consapevole delle proprie potenzialità, delle proprie qualità, lavorare e migliorare le cose che dobbiamo, i nostri difetti. Ecco, diciamo così.